Fondazione Ferrovie dello Stato italiana e Maison Cilento hanno presentato a Pietra Arsa l'esclusiva collezione di cravate full art che ripercorre la storia delle ferrovie dello Stato fino agli anni 60. Cinque le immagini selezionate per le cravate, la famosa Bayard, la locomotiva a vapore FS625, la storica Littorina, la carrozza reale dei Borbone e la statua di Ferdinando II. Ugo Cilento spiega così le scelte cromatiche dei tessuti. Mi sono ispirato alla bellezza storica di tutte le carrozze delle ferrovie dello Stato, in particolare ho selezionato la Littorina, la Bayard che fa parte un po' della nostra storia, la storia del mezzogiorno, la carrozza reale e la locomotiva a vapore 625. Per me è motivo di grande piacere, soddisfazione e orgoglio aver disegnato per le ferrovie dello Stato tutta l'eccellenza storica di una nazione veloce e dinamica. La Capsule Collection, in edizione limitata ed esclusiva per Fondazione Ferrovia dello Stato italiane, nasce dalla partnership fra due aziende fortemente radicate nella cultura italiana, che condividono una storia fatta di impegno, passione e tradizione. Luigi Cantamessa, direttore generale della Fondazione FS italiane. È l'eccellenza delle ferrovie, che a Napoli hanno la loro prima linea ferroviaria, il Natale del treno si celebra sulla Napoli Portici, con l'eccellenza campana che è quella della sartoria, che è quella del buon mangiare, che è quella del buon vivere. Ugo Cilento lo abbiamo scoperto per caso, ha un museo meraviglioso di tessuti, introvabili, cinque generazioni che lavorano instancabilmente a Napoli, esattamente come questo museo ferroviario. Pietrarza si conferma polo di grande attrazione turistica e culturale, come conferma Oreste Orvitti, direttore del museo. Pietrarza nasce come eccellenza nel 1842, eccellenza dell'artigianato e della cultura partenopea. E oggi è diventato polo culturale, racchiudenze di tutte quelle che sono le realtà che fanno grande questo territorio. Siamo partiti nel 2014 come Fondazione Ferrovia dello Stato, da 4.000 visitatori all'anno. Quest'anno chiudiamo con 200.000 visitatori, ma non è solo questo, non è solo il visitatore istituzionale. I grandi gruppi industriali, i grandi manager preferiscono Pietrarza come polo congressuale, punto di ospitalità e punto di riferimento di un territorio, di tutto il bacino del Mediterraneo meridionale. Era una...